Credo che le infrastrutture di partecipazione e di coesione sociale siano una risorsa che il nostro Paese non solo ha in piccola parte, ma che fino ad oggi le istituzioni si sono ben guardate dal comprendere, dall'inserire nelle politiche e dal valorizzarle. E questo credo sia un frutto avverenato della stagione a noi vicina di mafia capitale, della criminalizzazione delle ONG, della criminalizzazione e della cooperazione allo sviluppo. Ecco, io credo che questo sia un altro elemento importante, un lavoro politico che è parlamentare ma che è anche burocratico per smontare tutta questa impalcatura che è insieme di provvedimenti e di modi di pensare che impedisce la costruzione effettiva di una infrastruttura di coesione sociale. La centralità però del lavoro nostro è nel territorio e nei comuni e indico due gruppi sociali che sono prioritari. Il primo sono i giovani. I giovani a cominciare da quelli emarginati che sono in luoghi sociali emarginati, in cui il significato della parola emarginazione è sempre più esteso. È sorprendente che tutti dicano che l'Italia è un Paese in caduta demografica e contemporaneamente le politiche per i giovani sono quasi assenti. L'altra priorità sono le donne. Tutto il capitale di risorse che le donne sono in grado di trasmettere in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello familiare a quello delle istituzioni, oggi sono messe nel sottoscala. Ecco, credo che questa sia l'altra grande priorità. Non a caso ho parlato di donne e giovani perché i protagonisti del servizio civile universale sono giovani tra 18 e 28 anni e il 70% di questi giovani sono donne. Credo queste siano le priorità su cui concentrarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.